la grande fianza cosa ha fatto? Praticamente ha costruito intorno a quello che era il potere politico tutta una serie di un arsenale che è invincibile e con cui può schiacciare qualsiasi rivale politico possa emergere da un consulto elettorale. Facciamo un esempio, noi sappiamo che ci sono le borse, però magari le cose che sto dicendo non sono chiare a tutte perché chi le ascolta per la prima volta ha un'idea completamente utopistica e falsata della realtà, cioè dai libri di scuola noi apprendiamo che c'è un libero mercato e quindi la libera concorrenza, quindi si ha la percezione di vivere in un mondo dove vige il pluralismo delle idee e anche dei rapporti economici che è tutto regolato dalla concorrenza. In realtà tutto questo è assolutamente falso perché come dicevo in apertura se si controllano i pacchetti azionali di maggioranza di tutte le grandi multinazionali ma non solo di un singolo specifico ramo, di tutti i grandi rami, quindi automobilistico, finanziario, farmaceutico e così via, ritroviamo sempre gli stessi grandi fondi comuni di investimento che appartengono alle stesse grandi famiglie. Tutto questo ovviamente dà un potere sconfinato a chi ne ha il controllo e poi abbiamo assistito alla creazione per esempio delle agenzie di rating, anche queste possedute in larga maggioranza da questi gruppi, in cui le possono dare pagelle agli stati e alle società e quindi dalle loro pagelle poi dipende per esempio la stabilità dell'Italia, basta che modificano una lettera dei loro giudizi per far colare immediatamente in miseria un intero stato.